Grazie a tutti per l'autorità con cui ha risposto e per la correttezza, perché non ha fatto un discorso di parte, ma ha fatto un discorso da sindaco, cioè per quella che viene della città e l'interessamento delle varie forze politiche operate nel territorio stanno dando. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.